Sabato 10 ottobre si svolgerà a San Giovanni Valdarno l'iniziativa Volontari per la Comunità, prima giornata di promozione del volontariato e della cittadinanza attiva, organizzata dal Centro Sociale Pertini che quest'anno festeggia i suoi 20 anni di attività. Avremmo potuto fare una cosa lì da noi, con i nostri soci, con i nostri familiari, però ci è sembrato di allargarsi perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di fare rete con le altre organizzazioni di volontariato. L'intera giornata di sabato starà scaglionata da varie iniziative che prenderanno vita nell'aulamagna del Centro di Geotecnologie, nella Pieve di San Giovanni Battista e all'interno del Centro Sociale Pertini. La mattina si apre con la seduta del Consiglio Comune all'aperto, a tutti i cittadini, le associazioni, tutti sono chiamati a partecipare a questo momento di riflessione e riconoscimento del valore del volontariato e della cittadinanza attiva. Dopodiché alle 11 sarà inaugurata la mostra dal titolo Storie di noi associazioni, in cui ogni associazione si presenta con un pannello. Un ruolo importante svolto anche dall'amministrazione comunale, che vuole proporre un'azione permanente per migliorare la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato e le strutture pubbliche. Un riconoscimento che è da parte di tutto il Consiglio Comunale e da parte di tutti i gruppi consigliari che compongono il Consiglio Comunale. Appunto è un piccolo riconoscimento, alla quale ci teniamo davvero in modo importante per gratificarle e dire ovviamente grazie, perché dal sociale, dal volontariato, passa davvero il frutto, il seme per costruire qualcosa di bello nel futuro.